ciao a tutti cari amici e bentornati al nostro appuntamento dei racconti dell'imbrunire oggi una scenografia spettacolare spettacolare suggestiva diciamo ci farà compagnia perché sono qui nel bosco è un pomeriggio di ottobre è un po nuvoloso e io credo che questa sia l'atmosfera adatta per leggere il racconto che ho scelto per questa parte finale di ottobre è tratto da questa raccolta che vi ho già presentato storie di fantasmi un librone edito da newton and compton e credo che alcuni di voi lo abbiano lo abbiano acquistato l'anno scorso allora il racconto di oggi si intitola sui tetti ed è stato scritto da sabine baringold spero di averlo pronunciato bene e che fu un religioso quindi non era uno scrittore di professione vissuto sempre nella solita epoca tra la metà dell'ottocento e i primi anni del novecento e non era uno scrittore era un religioso però lasciò alla sua morte una grande quantità di scritti di saggi di studi di ogni genere tra cui una raccolta di storie di fantasmi di cui era appassionato da cui è stato tratto questo racconto e un saggio sulla licantropia che è stato uno dei saggi più studiati e più letti relativi a questo argomento dei licantropi bene ma adesso iniziamo il nostro racconto la prima parte del racconto sui tetti essendomi assicurato una rendita in australia e mosso da un insopprimibile desiderio di trascorrere i giorni che mi restavano in una tranquilla vita agreste nella mia terra tornato in inghilterra mi recai da un agente immobiliare con l'intenzione di affittare una casa con un pezzo di terreno per andare a caccia almeno 3000 acri con l'intesa che avrei potuto acquistarla se l'avessi trovata di mio gradimento non intendevo infatti acquistare una villa di campagna occhi chiusi senza averla prima sperimentata più di quanto un sovrano sia disposto a imbarcarsi in una guerra senza avere almeno un'idea dell'esercito con cui dovrà scontrarsi ero piuttosto attirato dalle fotografie di una dimora chiamata fernwood che mi affascinò anche più vedendola in una bella giornata d'ottobre quando l'estate di san martino spandeva sulla campagna un arcobaleno di colori sotto un sole tiepido e una tenue vaporosa foschia azzurrina tingeva le ombre di cobalto e conferiva alle colline una tale maestosità da farle sembrare montagne fernwood era un'antica costruzione a forma di acca e quindi probabilmente risalente agli inizi della dinastia tudor il portico dava nell'atrio sulla sinistra della barretta trasversale dell'acca sulla destra c'era il salotto la casa aveva un'unica pecca due scalinate che partivano dalle estremità della barretta trasversale e un piano superiore non c'era alcuna via di comunicazione fra le due ali dell'edificio ma il mio senso pratico i suggerì come ovviare all'inconveniente l'ingresso all'anteriore era rivolto a sud e l'atrio non aveva finestra nord nulla di più facile che creare un corridoio lungo il retro che congiungesse il piano inferiore a quello superiore senza bisogno di passare attraverso l'atrio l'intero lavoro sarebbe venuto a costare al massimo 200 sterline e non avrebbe arrecato a alcun danno estetico all'edificio concordai di prendere in affitto fernwood per un anno durante il quale avrei potuto rendermi conto se il posto mi si adattava se i vicini erano persone simpatiche se il clima si confaceva mia moglie ci recamo subito a fernwood e la prima settimana di novembre c'eravamo già comodamente sistemati la casa era immobiliata apparteneva un anziano signore scapolo un certo frammet che viveva in un appartamento in città e trascorreva quasi tutto il suo tempo al circolo correva voce che fosse stato piantato in asso dalla promessa sposa e che da allora avesse accuratamente evitato ogni compagnia femminile rimanendo scapolo andrei a trovarlo prima che ci stabilissimo a fernwood era un tipo un po blasé apatico distaccato per nulla fiero di possedere una sontuosa dimora che apparteneva alla sua famiglia da quattro secoli era dispostissimo a venderla per far dispetto a un cugino che contava di entrarne in possesso alla sua morte e che il signor frammet con la malignità a volte tipica delle persone anziane era particolarmente desideroso di lasciare a bocca asciutta immagino che la casa sia stata già affittata in precedenza gli dissi oh sì rispose in tono indifferente credo di sì molte volte per lunghi periodi no no non credo c'era qualche particolare motivo per cui gli inquilini non vi rimanevano se posso osare chiederlo tutti hanno dei motivi ma ammesso che ve li espongono non è detto che si debbano prendere per buoni non riuscì a cavalli di bocca altro che questo se fossi in lei credo che non andrei a fernwood fin dopo a novembre ma obiettai non voglio perdermi la caccia ah certo già la caccia avrei preferito che aveste aspettato fino ai primi di dicembre questo scombinerebbe i miei piani risposi e la cosa finì lì ci insediamo nella casa occupando nell'ala destra l'ala sinistra quella ovest era scarsamente ammobiliata e aveva un'aria squallida e deprimente come se raramente fosse stata abitata la nostra non era una famiglia numerosa solo mia moglie e io quindi nell'ala est avevamo tutto lo spazio necessario la servitù venne alloggiata sopra la cucina in una parte della casa che non ho ancora descritto era una mezza ala per così dire sul lato nord parallela al tratto superiore del lato occidentale dell'atrio e dell'acca questa parte aveva un timpano a nord come le due ali dalle quali lo separava un ampio compluvio di lamine di piombo che come mi informò l'agente immobiliare bisognava controllare dopo la caduta delle foglie e ripulire dopo una nevicata il compluvio si poteva raggiungere dall'interno attraverso una finestrella da baino sul tetto una scala pioli consentiva di salire dal corridoio fino alla finestrella per aprirla o chiuderla a questo corridoio che portava agli alloggi della servitù nella parte nuova e alle stanze vuote nella la vecchia si accedeva mediante la scalinata ovest dato che alle due estremità non c'erano finestre il corridoio si estendeva verso nord e verso sud e riceveva luce dall'abbaino di cui ho parlato una sera dopo circa una settimana che abitavamo nella casa me ne stavo seduto a fumare con un po di whisky e acqua a portata di mano leggendo la recensione di un libro assurdo scritto malissimo quando sentì bussare alla porta ed entrò la cameriera che in tono agitato mi disse chiedo scusa signore ma né la cuoca né io né nessuna di noi ha il coraggio di andare a dormire perché mai chiese alzando gli occhi sorpreso scusi signore non abbiamo il coraggio di entrare nel corridoio per andare nelle nostre camere cosa c'è che non va nel corridoio o niente signore nel corridoio le dispiacerebbe signore di venire a dare un'occhiata non riusciamo a capire misi giù la recensione con un borbottio seccato posai la pipa e segui la ragazza arrivati che fumo sul pianerottolo del piano superiore trovai tutte le domestiche raggruppate e tutte palesemente terrorizzate cos'è questa sciocchezza chiesi prego signore vuole guardare lei noi non lo sappiamo la cameriera indicò una chiazza oblunga di chiarore lunare sul muro del corridoio la notte era limpida e la luna piena brillava obliquamente attraverso l'abbaino dipingendo una brillante striscia argente sul muro opposto la finestra stava sul lato est del tetto e quindi la luna non era visibile mentre lo era la sua luce proiettata sulla parete questa chiazza di luce riflessa si trovava a poco più di due metri dal pavimento la finestra era un'altezza di circa tre metri e mezzo e il corridoio era largo non più di un metro e venti mi addentro in questi particolari per motivi che saranno evidenti quanto prima la finestra era divisa in tre parti da montanti di legno e ciascuna parte era composta da quattro pannelli di vetro ora potevo scorgere distintamente il riflesso della luna attraverso la finestra con le sbarre scure in alto e in basso la divisione dei pannelli ma c'era dell'altro attraverso parte della finestra scorsi l'ombra di un braccio scarno una mano dita lunghe e sottili che sembravano cercare a tentoni il nottolino che permetteva di aprire il battente la mia prima impressione fu che sul compluvio ci fosse un ladro che cercava di introdursi in casa attraverso l'abbaino senza un attimo di esitazione mi precipitai nel corridoio e guardai in su verso la finestra che però potevo scorgere solo in parte in quanto era di forma bassa e larga e come ho già detto situata molto in alto ma in quell'attimo qualcosa la attraversò svolazzando qualcosa di simile a un ondeggiare di tessuto che oscurò la luce avevo sistemato la scala che avevo trovato agganciata alla sommità del muro e avevo messo piede sul primo gradino quando arrivò mia moglie già allarmata dalla cameriera ora si aggrappò a me dichiarando che non dovevo salire senza la mia pistola per farla contenta presi la colt che tenevo sempre carica e solo allora sia pure a malincuori mi lasciò salire mi inerpicai fino al telaio della finestra sganciai il nottolino e mi affacciai fuori non si vedeva nulla la scala era troppo corta e si faceva fatica a essarsi e uscire attraverso la finestra sono piuttosto corpulento e non più così agile come lo ero da giovane dopo un paio di tentativi che in qualsiasi altro momento avrebbero provocato l'ilarità visti dal basso riuscì ad uscire sulle lamine di piombo guardai su e giù per il compluvio non c'era assolutamente nulla da vedere salvo un mucchio di foglie autunnali trasportateli dal vento bene cari amici finisce qui la prima parte del racconto sui tetti vi do appuntamento a domenica 31 ottobre un appuntamento speciale per stare insieme nella misteriosa notte del 31 con la seconda e ultima parte di questo racconto così vedremo cosa ci sarà mai di così tanto spaventoso sul tetto della casa e scopriremo forse perché il proprietario aveva messo in guardia il protagonista sul fatto di trasferirsi proprio nel mese di novembre in quella casa e perché tutti gli inquilini dopo pochi mesi se ne andavano lo scopriremo domenica alle ore 21 per una serata misteriosa ciao a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti